Il mondo dell'Atalanta è costellato di personaggi che ne hanno fatto la storia e tra questi c'è chi ha scritto pagine di bel calcio fatto di tecnica ma anche di cuore e di passione. Quest'oggi ci troviamo alla biblioteca dello sport Nero Marabini di Seriate per parlare dell'Atalanta degli anni 80 e lo facciamo in compagnia di Marino Magarin che per sei stagioni ha vestito la maglia della Dea. Benvenuto e grazie per aver accolto l'invito di Zona Mista Magazine. Grazie a te e devo solo dire grazie perché se mi chiamate mi fa solo piacere. Grazie. Buongiorno a tutti. Marino, tira la bomba. Questo è l'incitamento che arrivava dalla curva nord dello stadio quando c'era da tirare il calcio di punizione. Sì beh io devo solo per ringraziare il dodicesimo uomo in campo che è la curva nord. Io sono arrivato qui a Bergamo che ero uno di tanti, non conoscevano chi ero anche perché io non sapevo nemmeno io dove potevo arrivare sotto l'aspetto del calciatore. Però penso che dopo il primo impatto soprattutto i tifosi ma in tutto lo stadio mi hanno solo apprezzato e negli ultimi anni per me è stato veramente una grande soddisfazione, un piacere che la curva mi incitava come hai detto te un attimo fa. Ecco però lei se l'è anche meritato perché comunque 40 gol in 192 presenze. Che cosa ci puoi raccontare di quegli anni dal 1981 al 1987? Io sono arrivato quell'anno lì dell'81 che l'Atalanta era in Serie C purtroppo però da una parte dico anche che per fortuna perché probabilmente se rimaneva nelle categorie alte probabilmente io forse non sarei arrivato qui a Bergamo. Giocavo a Mantua e prima di arrivare a Mantua ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, ho giocato in terza categoria, in promozione, Serie D e dicendo dopo a settembre dell'80-81 il Mantua andava in cerca di un centrocampista e guarda caso a settembre sono arrivato io con tanta ambizione e prospettiva perché dovevo confermarmi. L'anno dopo siccome ero il 50% sia del Montebelluna che del Mantua sapevo che a marzo la comproprietà del Montebelluna l'abbia preso l'Atalanta quindi il presidente signor Tessariol mi ha detto guarda che abbiamo ceduto la tua controparte all'Atalanta e da lì. Io ho detto all'Atalanta, io ero abituato a trovare ragazzino a guardare le squadre maggiori cioè Inter, Mila, Juve e queste cose qui quindi da quel momento lì ho seguito l'Atalanta. Ho detto che soddisfazione e mai avrei pensato che retrocedesse e retrocessa e dopo c'era una continuità di dirigenti atalantini di cui faceva parte il signor Previtali ma avevo sentito anche che veniva lì Beppe Savoldi che collaborava con il Bologna quell'anno lì e io ho ancora l'articolo che lui ha detto chi è intervista al martedì che mi teniamo la gazzetta dello sport e c'era scritto Beppe Savoldi è venuto a osservare Marino Magrin non solo per il Bologna ma anche per l'Atalanta e lì ho detto ma allora vuol dire che ho un po' di qualità sotto l'aspetto tecnico e l'anno dopo è stata veramente una grande soddisfazione arrivare qui a Bergamo in questa famiglia atalantina. Ecco è importante sottolineare anche quelli che sono stati i sacrifici comunque perché lei viene da Bassano del Grappa e la vita non è stata proprio semplicissima, ha perso il papà da bambino e poi dopo la terza media ha iniziato a lavorare come fallegname allenandosi dopo il lavoro appunto poi come diceva finché l'Atalanta non si è reso conto delle sue doti tecniche e l'ha portata a Bergamo. Io ringrazio lei di questa veramente domanda che mi fa perché io le radici me le ricordo bene e veramente vengo da una famiglia che sappiamo i valori della vita, che la pagnotta è stata molto dura, io sempre ho sempre mia mamma negli occhi e devo sempre ringraziare lei perché è rimasta vedova a 45 anni con quattro figli, io ero l'ultimo e quindi so quegli anni lì e quel per Dio quanto lei ha sofferto però noi ci ha dato delle istruzioni molto importanti e di non mollare mai, di comportarsi bene nella vita e quindi penso che forse nel mio DNA forse c'era qualcosa di questo gioco del calcio perché ancora adesso il gioco che preferisco è il pallone e quindi io ho sempre amato il pallone, lo amo ancora adesso e mi mettevo lì anche da ragazzino oltre a giocare con gli amici ma gli facevo una tecnica individuale per conto mio tra muretto e si può dire e cortile quindi ecco io penso che ho imparato la tecnica di base lì nel mio cortile di casa. E poi appunto parlavamo prima di Serie C però poi c'è stato il debutto in Serie A quando Nedo Orsonetti ha puntato su di lei e l'ha fatta esordire nel settembre del 1984 contro l'Inter e in quel periodo stavano emergendo già alcune squadre come il Verona che vinse lo Scudetto e anche il Napoli di Maradona. Che cosa ha significato giocare nell'Atalanta in quel periodo? Ma intanto prima soddisfazione devo dire, ho detto un attimo fa, devo ringraziare il signor Previtali, la famiglia Portolotti che hanno creduto in me e soprattutto il ministro Ottavio Bianchi perché mi aveva visto giocare, lui era l'anno 81-82 nella Triestina, è arrivato qui anche lui per portare l'Atalanta in Serie B quell'anno lì e guarda caso penso che aveva parlato bene di me che mi ha visto giocare magari a Mantua. L'anno che sono arrivato qui abbiamo vinto subito il campionato, dopo è stato sempre importante perché non è come adesso che si firma, tu vinci il campionato e magari vediamo anche i ragazzini adesso dell'Atalanta che fanno bene ma firmi il contratto per due o tre anni, ogni anno dovevi dimostrare chi eri e la presenza e quindi io devo ringraziare Ottavio Bianchi e dopo è arrivato Mr. Sonetti come ha detto un attimo a lei e veramente è stato un impatto un po' non tanto bello con Mr. Sonetti all'inizio perché lui si è presentato in un modo veramente con grande personalità, camicia aperta, quindi un po' toscanaccio e quindi ha fatto capire che o ti comporti così oppure a me non servi, però io ho sempre dimostrato ed è la mia indole di cercare il massimo anche nella corsa che facevamo, non so, i primi, i primi, le prime corse in ritiro di essere sempre lì, non mai primo ma di essere qui primi per far dimostrare il mister che ci sono, che valgo. Però io dopo che mi ha visto un attimino sotto l'aspetto tecnico avevo fatto dei gol soprattutto con il mister Ottavio Bianchi anche delle punizioni contro il Bologna che Bologna era in Serie B, il Novara che era in Serie B quindi con squadra, la Pistoiese che era tutta squadra che veniva a retrocesso dalla Serie A e lì io mi sono sentito un attimino galvanizzato, quindi sono arrivato in Serie A che magari qualcuno ha detto no ma devi sempre dimostrare anche in Serie A chi sei, perché dicevo prima, perché noi che arrivavamo anche dal settore giovanile, mi scusi se mi allungo un attimino, dalla Serie 10 c'era l'amministratore delegato che doveva sempre dimostrare, quindi sotto l'aspetto economico ti dava un contentino, perché doveva sempre dimostrare, mi ricordo quell'anno lì prima di fermare, io ho fiducia e sono convinto che se ho fatto 13 gol in Serie B, perché eravamo 15 gol Pacione, 13 gol io, se ho fatto 13 gol in Serie B sicuramente non li faccio, però 4-5 li farò anche in Serie A e quindi mi hanno preso un attimino un po' di forza di più e dopo è stato veramente un grande trionfo perché con l'esordio, che con l'Inter quella prima partita in casa che c'era sui 43 mila spettatori, anzi aveva fatto gol Muraro, dopo abbiamo pareggiato noi con un calcio piazzato e aveva fatto gol Carlo Osti, 1-1 quindi grande soddisfazione. Grande esordio. Grande esordio. Facendo un salto in avanti poi arriviamo al 1987 quando ha segnato il gol che ha permesso all'Atalanta di battere il Parma e conquistare la finale di Coppa Italia contro il Napoli di Maradona. Questa finale ha poi permesso all'Atalanta nella stagione successiva di vivere la cavalcata della Coppa delle Coppe fino poi alla storica semifinale con il Marins, però lei nel frattempo è andato alla Juventus per rimpiazzare Platini. Michel Platini. Intanto con la quartifinale e anche la semifinale, il gol che ho fatto col Parma è stato un mio gol di testa, io di testa non è che abbia realizzato tanti gol, però ho fatto inserimento centrale e quindi come hai detto tu un attimo fa è stato molto molto importante perché lì ci ha permesso di andare in finale di Coppa Italia. Sappiamo tutti che quell'anno lì è stato veramente un anno un po' impegnativo, però l'ultima partita siamo retrocessi e ci dispiace tantissimo, però quello lì ci ha permesso di andare in finale e guarda caso ci ha permesso anche all'Atalanta l'anno dopo, come dicevi un attimo fa, di fare questa bella Coppa. Io purtroppo non sono stato qui perché già il Presidente aveva già parlato con diverse società che io addirittura pensavo di approdare o al Milan o all'Inter perché c'era il mister Treppattoni che mi voleva e invece dopo il signor Achille Bortolotti mi fa tu vai dove dico io e vai alla Juventus perché lì è una bella famiglia e così Boniperti mi ha preso e sono andato con tranquillità e serenità, ma io dico non per impiazzare Michel Platini perché io ho sempre detto che ero un ottimo giocatore, un buon giocatore ma non sono mai stato un fuori classe come Platini, Maradona, Zico a quei tempi lì, ero un ottimo giocatore, però Boniperti mi ha detto io quando sono andato a firmare il contratto io non voglio che tu facciai Platini in situazione, comportati come hai sempre fatto, abbiamo fiducia in te e stima, l'unica cosa fa non ti do il numero 10 per non crearti di problemi, ho scusato, sono venuto qua per il numero 10 perché non mi dai il numero 10, perché non mi dai il numero 10, fa no è meglio di no, ti do il numero 8, intanto la ringrazio perché vuol dire che faccio parte di 11 e sono titolare, il 10 è che va, di Agostini, era lì, ho detto beh cercherò di meritarmelo durante il campionato, così è nata, e le dirò una cosa che mi dispiace tantissimo perché me l'avevo anche conquistato in una partita importante Juventus-Inter e abbiamo vinto proprio con rigore che avevo calciato io, a fine nello spogliatoio, metto questa chicca, allo spogliatoio e tutti quanti fanno, mister ma diamo questo numero 10 a Magrini, andiamo nel numero 10 che lo desidera e tutto quanto, ci penserò, ha detto Rino Marchesi, e al giovedì ho fatto un calcio piazzato, ho calciato veramente forte, ho avuto una miosite acuta che mi è stato fermo 5 mesi purtroppo, da quell'infortunio lì, quindi i 10 l'ho solo sognato. Marino Magrini però è rimasto fortemente nel cuore dei tifosi atalantini e le chiedo, ieri come oggi, quali sono i valori che fanno sì che si crea un legame così forte tra un calciatore e la squadra, ma non solo, anche con la città? Beh, io devo dire che dove sono andato mi hanno sempre apprezzato, sì i tifosi, anche le persone del territorio, diciamo che qui è nato mio figlio, che nel 1985 è nato Michele e dopo c'è sempre stato questo punto di riferimento con degli amici, con delle conoscenze, siamo ritornati, proprio anche perché la società ogni tanto ci tenevamo in collegamento e grazie al maestro Bonifacio, il maestro Bonifacio che lui era responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, mi ha detto se vieni qui è la possibilità di iniziare un ciclo del settore giovanile con i pulcini, gli esordienti e così ho fatto e quindi mi sono, come sono arrivato qui a settembre, mi ha dato la possibilità di entrare nelle file del settore giovanile dell'Atalanta e per me iniziare a fare l'istruttore è stata una cosa meravigliosa, come amo ancora adesso fare un po' l'allenatore o l'istruttore con i ragazzini. Cuore bergamasco allora? Cuore veneto, bergamasco, però ho visto che si accumulano queste radici importanti perché sia il Veneto anche qui, come dicono, mola mia, abbiamo delle radici profonde, le abbiamo coltivate e cerchiamo di non perdere per il futuro. Grazie a Marino Magherini per essere stato con noi, per aver ripercorso la sua carriera e anche aver sottolineato gli importanti valori che sono alla base di un personaggio come lei. Io ringrazio tutti gli sportivi atalantini e non e ringrazio soprattutto te, lei personalmente, che mi ha dato questa possibilità di fare questa intervista. Grazie a tutti.